amici rossoneri ben ritrovati a un nuovo video qui sul nostro canale ac milan inside vi andremo a parlare del resoconto di giornata per quanto riguarda il campionato primavera e la serie a femminile c'era il doppio confronto contro il sassuolo però ne parliamo tra un po prima vi voglio ricordare di seguire il nostro canale ac milan inside qui su youtube e mettere like a questo video allora il milan primavera ha pareggiato 3 a 3 al puma house of football mentre la femminile ha perso 1 a 0 a ricci entrambe le partite si giocavano contro il sassuolo si la primavera ha pareggiato ma si può parlare tranquillamente di una sconfitta perché all'ottantaquattresimo i ragazzi di abate erano in vantaggio per tre reti a zero c'è stata la doppietta di camarda e il gol di sia il secondo gol di del bomber rosso nero francesco camarda ed applausi un gol strepitoso e questo ragazzo che ha neanche 16 anni sta facendo delle cose straordinarie stupisce di partita in partita tutti gli addetti lavori e non solo la lasciando tralasciando ora il fenomeno camarda come dicevamo i rosso nero all'ottantaquattresimo erano in vantaggio per 3 a 0 nel giro di sei minuti si sono fatti rimontare quindi la partita è terminata sul 3 a 3 la distanza era una partita importantissima per i ragazzi di abate perché il milan era secondo in classifica a cinque distanze dall'inter e il sassuolo era quinto in classifica però con due punti di differenza dai rossonieri quindi la vittoria portava il milan a un più cinque rafforzava il secondo posto che non è tanto la rincorsa sull'inter ricordiamo che le prime due classificate del campionato una vera accedono direttamente alle semifinali della pool scudetto invece dalla terza alla sesta si giocano il playoff quindi gli accessi per quanto riguarda poi arrivare in semifinale quindi sarebbe stato un risultato importante perché rafforzava il secondo posto e aumentava il vantaggio sul sassuolo che è una diretta concorrente per diciamo le fasi finali di questo campionato passiamo al campionato femminile la serie a il milan di davide corti ha perso 1 a 0 al ricci contro se il sassuolo il gol è stato di sabatino sul calcio di rigore alla mezz'ora del primo tempo sconfitta brut che brucia brutta per le ragazze rossoniere che certificano il non accesso alla pool scudetto mancano due giornate alla fine della regular season e il milan femminile a questo punto si trova terzo ultimo in classifica a meno 8 da quel quinto posto che garantisce la pool scudetto quindi con sei punti disponibili non ci sono più le presupposti per accedere alla pool scudetto il milan a questo punto dovrà lottare per non retrocedere e giocherà la pool salvezza dal che in pratica dove andranno a giocarsi le squadre che arrivano dal sesto al decimo posto tra questi c'è il milano diciamo è una posizione che a inizio campionato non su non si aspettava perché almeno tra le prime qui cinque la squadra rossonera veniva inserita purtroppo in questo momento a due giornate dal termine del campionato il milano e terzo ultimo e ricordiamo che all'ultima giornata della regular season season c'è il derby e quindi il milan deve cercare almeno di fare sei punti in queste due partite per non finire terzo ultimo almeno quarto ultimo giusto per la griglia dei punti che serve perché perché in pratica al sia la pool salvezza che nella pool scudetto le squadre si portano dietro i punti della regular season e quindi riparto un nuovo campionato solo che invece di giocare contro tutte le squadre del campionato andrà ad affrontare solo quelle dalla sesta alla decima per quanto riguarda la pool salvezza e dalla prima alla quinta per quanto riguarda la pool scudetto il milano invece come dicevamo a questo punto il risultato oggi del ricci contro il sassuolo ha garantito ha certificato che le rossonere giocheranno la pool salvezza di questo campionato 2023 2024 nella serie a femminile